L'aeroporto di Grottaglie, ma non soltanto. Il G7 tocca Taranto oltre all'utilizzo dell'arlotta per i voli di Stato e per qualche altra sistemazione logistica inerente alla sicurezza complessiva del vertice, ma anche per ospitare il leader ucraino Zelensky. Da fonti solitamente ben informate, Zelensky è arrivato intorno alla mezzanotte al resort sulle sponde del Mar Piccolo, con le comprensibili misure di sicurezza che sono state attuate. Da ieri infatti erano in stato d'allerta le forze dell'ordine sotto il coordinamento del questore di Taranto, il dottor Massimo Gambino, e anche le strutture di soccorso della ASL di Taranto, che per eventi del genere vengono sempre messe in stato di prontezza operativa. Le immagini che vedete, riprese in mattinata, dimostrano la presenza discreta di forze dell'ordine e militari nei pressi del resort. Poi Zelensky, dopo un'abbondante colazione, ha raggiunto Borgo e Ignazia per una serie di incontri con i leader delle economie più importanti del mondo. Si parlerà anche soprattutto degli aiuti italiani alle forze armate di Kiev. Intanto all'aeroporto di Grottaglie sono stati segnalati gli arrivi delle delegazioni canadese, inglese e tedesca. Le comprensibili misure di sicurezza hanno tenuto sotto controllo gli svincoli delle strade e tutte le zone adiacenti all'Arlotta, che ancora una volta ha dimostrato lo spessore di una grande infrastruttura aeroportuale a disposizione dello sviluppo economico e sociale del Salento, della Puglia e del sud Italia.